E ci ritroviamo nuovamente in compagnia dell'artista Luciano Cirillo negli studi di Cilento Channel per presentarvi la mostra che si terrà dal primo al 15 luglio presso il castello Angioino Aragonese, un'antologia a scopo culturale tra le righe dell'inquietudine e della cultura storia per costruire il futuro. Al senerale dopo tante opere drammatiche fatte in passato, mi butto sulla serenità, sulla tranquillità, il blu che dà proprio questa indicazione. Ecco, l'opera sul manifesto è l'opera 189 di Registro, il portiere del tempo tra il riguardante e il divino cosmico. Questa opera è dunque dispunto, l'uomo cerca di salvare il mondo in questa esplosione cosmica, big bang per dire, dunque questa mostra è a scopo didattico. C'è anche la passeggiata con numerose litografie che spiegano proprio i vari periodi, dal periodo dunque del 68, il problema razziale, poi ho parlato dell'inquinamento già nel 74, ho parlato dunque del 150esimo anniversario dell'Unione d'Italia, poi ho parlato nel 69, torno indietro per il problema della bomba all'atomica Hiroshima, questi problemi, i vari problemi sociali, oltre al messaggio del disegno e del colore, il paesaggio, la natura morta, la composizione, mi sono poi versato su questi orizzonti umani, diciamo questa è un po' la teoria, dunque l'esposizione sopra Agropoli, vediamo dopo tanti anni sono riuscito a farla, speriamo in futuro ancora migliore, quindi ci saranno 150 litografie nella passeggiata e varie opere, bisogna vedere lo spazio, come collocare queste opere, perché ci sono opere anche da un metro e ottanta, un metro e cinquanta, quindi per poter dare un passaggio tra gli anni 60 al 2000-2012. Le opere non sono in vendita, sono a scopo culturale, didattico e culturale. Quindi sarà sempre un viaggio all'interno della cultura storica per costruire appunto il futuro, ma con un colore in più, quello del blu come diceva prima lei. Il vernissaggio sarà alle ore 20 e 30, quindi abbiamo detto presso la sala dei francesi, dal primo al 15 agosto ad Agropoli, quindi mi raccomando, correte tutti numerosi perché è una mostra davvero interessante, qui non potete mancare.